Il furto in casa è il reato che gli italiani temono di più. Sono il 52,8% secondo il Censys coloro che hanno paura che i ladri entrino nella propria abitazione, molto più di coloro che invece si preoccupano per possibili aggressioni e minacce, il 22,1%, o che sia loro rubata l'auto, il 16,1%. Eppure i furti in abitazione sono in diminuzione. Secondo quanto riporta Confedilizia, in base alle elaborazioni Istat dei dati del Ministero dell'Interno, anche dopo l'uscita dalle restrizioni legate al Covid che avevano fortemente limitato il fenomeno, non si è tornati ai livelli prepandemici. Ma i numeri si differenziano lungo la penisola e al primo posto, a sorpresa rispetto alle statistiche su altri tipi di reato, c'è la Toscana, dove l'anno scorso ci sono state 13,4 vittime ogni mille famiglie, mentre all'estremo opposto si trovano Sardegna, Basilicata e Calabria. In base ai dati del Censis e delle forze di polizia sulle denunce 2022, è nella provincia di Pisa, spiega Confedilizia, che si registra il numero più alto ogni 100.000 abitanti, 420. Le statistiche certo risentono della possibile maggiore o minore tendenza a denunciare, ma comunque agli ultimi posti si trovano alcune province rurali e meno densamente popolate del Mezzogiorno e delle isole. Le città metropolitane, Firenze compresa, hanno dati simili a quelli del resto del paese, oltre 30 furti denunciati per 100.000 abitanti, ma il confronto con il 2019 dimostra che in tutte le metropoli si è verificato un calo dei furti, con l'eccezione di Roma e Napoli. Sempre il Censis mostra che la diminuzione delle denunce, comunque, era iniziata nel 2015.